L'ultimo respiro.f attraverso Francesca R a cura di VB Clara. Ho accompagnato nel momento del passaggio tre persone e sempre nel momento dell'ultimo respiro dal morente è uscito un qualcosa che mi ha attraversato. Perché? Michel, perché in quel momento hai percepito il passaggio dallo stato incarnativo allo stato non incarnativo pur rimanendo e permanendo il tuo corpo nell'ambiente fisico. Clara, ho sentito proprio qualcosa che si staccava dal morente e mi attraversava il corpo. Michel, è a seconda del grado di percettibilità dell'essere incarnato che è presente al momento del distacco. In quel momento la propria evoluzione permette di percepire vari stati. C'è chi è in grado di vedere il distacco, c'è chi lo percepisce come un'onda, una presenza che lo attraversa e c'è chi non vede assolutamente niente. Più sei in avanti nel tuo cammino evolutivo, più sei in grado di percepire. Clara, ma io l'ho sentito perché ero molto vicino al morente. Chiunque rimanga vicino al morente lo sente? Michel, chi è in grado di sentire e percepire il passaggio, lo sente a qualunque distanza. L'aura è come un'onda che si propaga oppure come una fiammella che può attraversare una persona o un'altra. Michel, è a seconda del grado di percettibilità dell'essere incarnato. In quel momento l'evoluzione individuale permette di percepire vari stati. Domanda, quale corpo tra i tanti percepisce questa onda? Michel, è una domanda interessante. È solo l'unione del corpo fisico con il corpo astrale che permette la percettibilità del distacco, della separazione. Tutti gli altri corpi superiori a quello astrale vedono il distacco direttamente e sanno quello che sta accadendo. Mentre nel piano fisico il corpo astrale e il corpo fisico è come se collimassero e insieme si aiutassero a percepire il percepibile senza passare uno nel campo dell'altro.